Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Un decreto legge, un provvedimento che serve per sostenere l'economia di questo Paese, stiamo e il DL Concorrenze è uno dei provvedimenti propedeutici a far arrivare in Italia le risorse del piano nazionale di presa e resilienza, mi stupisco che non si accorga che cosa stiamo facendo. Io credo che in questo momento senza un governo all'altezza, solido, un Parlamento che sta facendo il suo lavoro saremmo enormemente in difficoltà. Poi anche questo paradosso che in Italia non si va mai a votare, non cadono i governi, ma è sempre stato l'esatto contrario. Noi siamo il Paese dell'instabilità, in cui si va a votare troppo spesso, in cui si cambiano troppo spesso i governi. Per cui io credo che il tema non lo risolvi neanche soltanto con la questione della legge elettorale proporzionale che ha i limiti di rimettere poi nei gruppi parlamentari il tema della costruzione del governo che secondo me dovrebbe essere affidato agli italiani. Per cui secondo noi servirebbe una riforma istituzionale più strutturale. La tentammo. Io ricordo la Sant'Anché e le forze politiche che oggi dicono stabilità, governi con bisogna saperlo prima, chi andrà a governare, che facevano le campagne contro il referendum in cui si prevedeva un monocameralismo sostanziale, non di fatto, come sta accadendo oggi. Paraone, ma invece sui tassisti? Perché siamo in chiusura. Sui tassisti? No, e quindi io credo che noi, anche sui tassi, così come abbiamo fatto sui balneari e su tutti i provvedimenti che stanno sul concorrenza, bisogna riuscire a trovare delle soluzioni che tengano insieme la necessità di garantire la concorrenza con tutti i processi di concertazione che sono utili per non interrompere un percorso che comunque il Paese è in atto. Per cui bisogna sostenere, sono d'accordo con Velardi, l'operato di Teresa Bellanova che sta facendo molto bene in nome e per conto del governo. Sant'Anché, vengono sempre tirati in ballo?